Buongiorno amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme la giornata per conoscere il Santo del Giorno e per vedere che tempo fa. Oggi è un santo particolare, un santo molto molto conosciuto, Santa Cecilia. Un santo che viene festeggiato in modo particolare dai musicisti, da coloro che sono appassionati di musica. Ebbene, ma chi era Santa Cecilia? Santa Cecilia era una vergine martire che visse al tempo dell'imperatore Alessandro Severo. Era promessa sposa a un giovane che si chiamava Valeriano e che ella volle poi convertire al cristianesimo insieme al suo fratello che si chiamava Tiburzio. Però i tre vennero scoperti dalle guardie dell'imperatore e furono condannati a morte. Ai due ragazzi furono tagliate la testa. Alla giovane Cecilia fu cominata la pena di essere rinchiusa in una stanza per morire poi soffocata. Ma in realtà Cecilia non morì. E allora anche a lei fu imposto il taglio della testa. Ma anche questo fu una cosa molto difficile. Il boia ci provò tre volte prima che la vergine morisse. Ma in realtà non morì e dopo tre giorni di agonia veramente la testa le fu fatale. Cecilia fu festeggiata nel corso degli anni. Prima il suo corpo fu sepolto in una catacomba. Poi fu riusumato nel 1599 e fu trovato intatto. Dallora il Maderno scolpì una bellissima statua che ora viene esposta nella chiesa di Santa Cecilia a Roma in Trastevere. Una meta per tanti fedeli ma anche per tanti turisti che vogliono vedere questo capolavoro. Ebbene ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo si oscura ancora di più rispetto a quello dei giorni scorsi. C'è una intensificazione della nuvolosità nelle Marche con piogge sparse a partire dai versanti centro-settentrionali della regione. Le temperature sono ancora in calo e uscilleranno tra le minime degli 8 e le massime dei 13 gradi. E ora passiamo alla rassegna stampa a partire dall'arresto del Carlino. La prima pagina si apre con un episodio di cronaca. In venti contro due, pestati a sangue. Un episodio inqualificabile che si è verificato a Borgo Massano, nell'entroterra pesarese. Sono stati aggrediti dal branco, erano due persone. Sono state aggredite dal branco mentre stavano parcheggiando l'auto. Un caos davanti al bar. Ed è veramente un episodio grave perché una delle due persone che è stata aggredita ha riportato serie conseguenze. Ma la notizia, la fotonotizia, quindi quella che appare in maniera più evidente sul resto del Carlino, ma lo vediamo anche poi sul Corriere Adriatico, è dedicata allo sport. Finalmente la WL. La WL ottiene un bel successo nell'ultimo incontro. Il Pesaro espugna Cremona e rivede la luce. La Visse invece fa così e così, ovvero si accontenta di un pareggio. La Visse si accende solo nel finale con la Carrarese e la partita finisce senza gol. E poi abbiamo, per quanto riguarda Megabox, una paura per Bonafede che si accascia durante la partita colto da Malore. Oggi una giornata importante per la Confindustria perché avviene l'avvicendamento della presidenza tra Papalini e una donna, una donna che per la prima volta è alle redini dell'associazione, si tratta di Alessandra Baronciani. E poi muore la storica maestra Santini, aveva a cent'anni una figura molto nota ad Orciano, ha tirato su intere generazioni oggi l'addio nella chiesa di San Cristoforo. Apriamo il giornale, vediamo subito un problema di sanità. L'ecodoppler non ne facciamo e per prenotare l'attack vada a Fano. È la protesta di un 79enne che si era rivolto al CUP, si tratta di Dino Contardi. Per il primo esame gli è stato detto che non c'era posto, neanche tra diversi mesi, e quindi non poteva prenotarlo. E per l'appuntamento dall'oculista bisognava recarsi fisicamente in reparto. Insomma è un problema questo che investe un po' tutti coloro che hanno bisogno di un esame diagnostico, un esame entro un tempo accettabile. Ebbene per fare un'ecodoppler al cuore non c'era posto. Bisogna andare per forza da un privato e questo ovviamente per il sistema sanitario pubblico non è accettabile. E poi questa persona doveva fare un'attacca ad un occhio. Ebbene ha chiamato il CUP e gli è stato detto che questi esami non ne li prendono in carico. Deve andare direttamente in reparto, da Pesaro deve recarsi a Fano, per cercare di parlare con la responsabile, con una infermiera, magari con una caposala, per cercare di prendere un appuntamento. Ma tra Pesaro e Fano insomma la distanza non è molta. Per molti altri esami invece bisogna andare più lontano se poi questi esami si possono fare. Insomma il problema delle prenotazioni è un problema ancora molto molto grave. Il limbo dei positivi in attesa del molecolare laser va in affanno e i tempi si allungano. La positività emersa dopo l'antigenico va confermata al secondo test, ma il drive point non c'è ancora e le usche non arrivano dappertutto. Ad aggravare il problema pure i nuovi protocolli a scuola che sovraccaricano il lavoro dei sanitari. Ebbene c'è un boom di persone positive al Covid. Ci sono molte richieste di tamponi all'Asur. L'Asur va in affanno. Schizzano in queste ore le richieste per la somministrazione dei test, ma i tempi si dilatano e si allungano. E le file al drive point, che al momento è in attesa della riapertura per quanto riguarda Pesaro, in via Lombardia e solo al Codba di Fano, al limite a Durbino, si allungano. Non posso muovermi da casa, aspetto da quattro giorni. E ci sono persone che veramente non riescono a muoversi da casa. Vuoi perché hanno i bambini piccoli, vuoi perché non possono, veramente, perché sono impossibilitate. Ebbene questa è una vicenda di Rossana C. Che ha 50 anni e vive a Villa Ceccolini, la madre di un figlio di 10. Ha chiamato ieri alla redazione del resto del Carlino, perché non sa più a chi rivolgersi per avere un tampone molecolare, dopo essersi risultata positiva a quello rapido fatto in farmacia. Dunque nemmeno per una conferma è possibile avere un servizio efficiente. L'articolo poi sviluppato per quanto riguarda la Confindustria. Una donna arriva al vertice, la vediamo qui in fotografia. Si tratta di Alessandra Baronciani, che da domani prenderà la guida dell'Associazione di Categoria. E domani mattina, con inizio alle 10 al Teatro Sperimentale di Pesaro, si svolgerà l'Assemblea pubblica di Confindustria. E invece nella sede di Palazzo Ciacchi ci sarà l'ultima formalità, ovvero le votazioni dell'Assemblea, che decreterà il passaggio di testimone tra il presidente Papalini e la nuova presidente Alessandra Baronciani, la quale poi nominerà, anzi a sua volta, i due vicepresidenti. Dovrebbero essere Gianmarco Scavolini, primogenito di Walter, e Vittorio Livi, che è il fondatore della Fiam, anche un uomo che ha vissuto la macchina dell'associazionismo a vari livelli, compresi quelli nazionali. E c'è il ricordo di una figura molto cara a Pesaro, quella di padre Giuseppe Bocci. I capoccini lo ricordano. Domani la messa al 47esimo anno della sua morte, del quale è in corso il processo di beatificazione. Al termine della messa sarà scoperto un busto nel museo a lui dedicato in chiesa. Ebbene, padre Giuseppe Bocci visse per tanti anni nella città pesarese, era originario di Sant'Elpidio a mare, ma il suo ricordo non è svanito e quindi viene ricordato con grande emozione. Ed ora veniamo alla cronaca, veniamo alla cronaca e vediamo la notizia di Borgo Massano, dove sono stati pestati a sangue dal branco due persone, due amici, due giovani, che erano arrivati a bordo di una macchina, di una Fiat Punto. Appena arrivati davanti al bar, sono visti aggredire da una persona, sembra un extracomunitario, un marrocchino che è uscito dal bar e salito sull'auto proprio con l'intento di danneggiarla. I due sono usciti, hanno cercato di farlo smettere, ma dal bar poi sono usciti un'altra ventina, un altro gruppo sostanzioso di persone che hanno malmenato veramente. Uno è riuscito quasi a fuggire, l'altro invece ha subito tutte le botte e ha avuto la frattura di alcune costole, addirittura il naso rotto e qualche dente saltato via. Ha una prognosi di oltre 30 giorni e molta rabbia all'interno, perché non c'era ragione di fare questa violenza, questo assalto. Il ventenne ha avuto le costole e il naso fratturato, nel mirino sono marrocchini e albanesi. Oggi davanti al giudice comparirà il 35enne che ha aggredito il padre, voleva 500 euro dal genitore per comprare la cocaina, lo ha picchiato minacciandolo con il coltello. è una persona ovviamente in preda alla droga, forse ha anche dei problemi psichici. La madre ha tentato di non farlo arrestare, cioè me ne occupo io, per poi cercare una comunità in cui ricoverarlo, ma però insomma non è riuscita a scampare la sua comparsa davanti al giudice. Un cane prigioniero dell'Istrice preso un escavatore per liberarlo. Vi leggo una notizia curiosa questa mattina. Questo cagnolino di razza Springer era finito nella tana dell'Istrice inseguendolo ed era andato sottoterra per ben due metri. Il cane aveva visto l'Istrice, aveva così insomma anche per giocare oppure per prenderlo. Si era infilato nella tana di questo animaletto, ma poi siccome la tana era stretta, non è riuscito a voltarsi e a uscire. Il padrone preoccupato ha chiamato i vigili del fuoco, ai quali sono ricorsi addirittura all'uso di un escavatore per liberarlo. Alla fine ci sono riusciti e lo Springer Spaniel, vediamo qui una foto della stessa razza del protagonista di questa storia, è riuscito dunque a scamparla. E veniamo nella pagina di Fano dove si parla di politica. Si parla di politica con la fotografia di un sindaco Massimo Seri un po' preoccupato. Sta e sembra che ci sia un rimpasto di giunta e a questo proposito ci sono malumori nel Partito Democratico per l'eventuale passaggio del testimone dell'Attonelli, l'assessore ai lavori pubblici. La Lega intanto attacca Seri, la nave affonda, altro che cambio di rotta. Insomma una verifica di giunta che potrebbe portare al cambio della gestione dei lavori pubblici che viene così gestita dall'assessore Tonelli. Ad esprimere però il disappunto di quanto sta accadendo è la capogruppo del PD Agnese Giacomoni. Considero molto grave, ha detto che il sindaco Seri non smentisca o neghi l'eventuale rimpasto di giunta e che questo avvenga nei giorni che precedono il concresso del Partito Democratico. Ci sono anche dichiarazioni di Cora Fattori di cui si fa il nome per la sostituzione di Fabiola Tonelli la quale dice sono lusingata se si pensa a me come assessore. Al momento non mi è stato proposto né detto che io accetti visto che ho il mio lavoro su cui ho investito molto in questi anni. E poi ci sono le pesanti critiche della Lega soprattutto nei confronti del sindaco altro che spazio ai giovani afferma altro che città bella e competitiva che il sindaco abbia qualche grattacapo ai lavori pubblici lo si era capito da tanto tanto tempo. Per l'acciclabile si conferma il muro di sostegno. Questo è uno dei grattacapi dell'assessorato ai lavori pubblici. C'è una ferma protesta da parte degli ambientalisti per il progetto che sconvolgerebbe un po' l'assetto naturale della zona dell'Arzilla. C'è stato un incontro tra i tecnici del Comune e i tecnici dell'associazione Lupus in Fabola per cercare di trovare un accordo. La maggior cosa contestata dagli ambientalisti era la pose in opera di gabbionate sulla sponda del greppo che costeggia la pista ma la gabbionata viene considerata dai tecnici del Comune indispensabile. Si è un pochino venuti in accordo per la riduzione dell'ampiezza della pista che viene ridotta a due metri e mezzo ma questi non vengono considerati sufficienti dagli ambientalisti i quali avevano chiesto due metri. Insomma, l'accordo non c'è stato e le divergenze permangono. Faccia a faccia col lupo al cimitero. Ormai i lupi si vedono un po' dappertutto nei giardini delle case e nelle aie di campagna ma anche nei nuclei urbani. sorpresa e paura al Camposanto dell'Ulivo una persona si è imbattuta fronte a fronte con un lupo si sono guardati a vicenda ovviamente l'uomo ha avuto paura e il lupo invece se n'è andato tranquillo per i fatti suoi però sono spariti i gatti selvatici insomma questo è un segno preoccupante per la presenza di questi predatori all'interno del cimitero. E ieri c'è stata la grande giornata di sapori e aromi di autunno al Codma gremita di visitatori c'erano un'ottantina di espositori che hanno così presentato il meglio delle loro produzioni agricole autunnali dimostrando sempre più che l'autunno non è quella stagione di passaggio magari un po' scialba che uno può sospettare in realtà è una stagione molto molto produttiva ci sono infiniti frutti sia dell'orto che della della campagna della coltivazione agricola ci sono salumi formaggi veramente una infinità di cose per perderci l'occhio e soprattutto la lingua sapori e aromi d'autunno debutto di alto gradimento un 42enne arrestato dai carabinieri al bar accusato di atti persecutori contro una donna gli uomini dell'arma lo hanno portato in caserma mentre nel locale i clienti guardavano la partita fiorentina milan a carico dell'uomo sembra che ci sia una presunta accusa di estorsione e atti persecutori scaturiti da una relazione con una donna sposata che a un certo punto avrebbe deciso di troncare la relazione il solito cliché insomma e poi vediamo sul giornale no non vediamo più niente perché il Carlino oggi è in edizione ridotta come tutti i lunedì allora passiamo subito al Corriere Adriatico vedendo la prima pagina si apre con il problema della Guardia Medica un rebus per quanto riguarda i turni ne restano decine ancora scoperti nel mese di dicembre all'appello hanno risposto soltanto in quattro le postazioni di Montecchio e Gradara rimangono chiuse l'extrema razio è il numero unico vedremo poi all'interno di che cosa si tratta per la Confindustria Pesaro la prima donna come presidente il richiamo a centro pagina Largua e Mercatini in centro scattano i divieti di Natale e per quanto riguarda Fano una notizia nuova aeroporto si risolve l'inghippo giuridico per il bando di Enac e vedremo poi come si risolve anche il Corriere Adriatico riporta la notizia del ventenne picchiato a sangue dal branco alterato dall'alco e allora vediamo subito guardia medica all'appello rispondono solamente in quattro ci sono ancora decine di turni scoperti il numero unico l'extrema razio il mese di dicembre si prospetta difficile quanto se non più del mese di novembre al momento sembrano chiuse anzi sono chiuse le postazioni di Vallefoglia Montecchio Gabice e Gradara che fanno capo al distretto di Pesaro per coprire il fabbisogno dei turni del distretto dovrebbero essere 28 mentre ad oggi sono soltanto 5 questo dimostra l'entità del problema e poi dei 23 medici mancanti 11 hanno rinunciato a causa della specialistica fuori città e secondo l'attuale organizzazione a Pesaro attualmente c'è una postazione di guardia medica con due professionisti impegnati nei turni diurni dei giorni festivi e prefestivi e dal lunedì al venerdì uno o due medici dalle 20 alle 8 del mattino ci sono anche criticità nelle postazioni di Mondavio e Cagli insomma legge quest'articolo insomma la sanità non sta affatto bene abbiamo visto prima quali sono anche i problemi per quanto riguarda le prenotazioni degli esami diagnostici covid più visite a domicilio famiglie contagiate dai figli il coordinatore dell'USCA di Pesaro Marco Delbianco afferma 9 casi su 10 nuclei non vaccinati per quanto riguarda la positività dal covid e poi il Corriere ha questo articolo sul passaggio delle consegne alla presidenza di Confindustria tra Alessandra Baronciani e Mauro Papalini vediamo i due protagonisti mercatini a trazione cercano spazio e in centro scattano i divieti di Natale da via Curie alla via Pedrotti e fino a piazzale Matteotti da oggi si iniziano a montare gli allestimenti questa mattina l'amministrazione comunale di Pesaro presenterà il pacchetto ufficiale di iniziative Pesaro nel cuore così è stato denominato questo pacchetto il Natale dappertutto tra le attrazioni l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi non mancherà lo scivolo di ghiaccio Taboga in via Curiel la cui installazione e utilizzo sotto le feste comporterà a partire da oggi e fino al 12 gennaio il divieto di sosta 024 lungo la stessa via Curiel con rimozione in entrambi i lati dei veicoli quindi attenzione a non incorrere nelle multe in particolare nel tratto tra via Contramine e Piazzale Lazzarini con una deroga fino a mercoledì per i mezzi che si occupano dell'allestimento smontaggio e supporto tecnico logistico e vedete qui una fotografia della bolla la bolla igloo che sarà allestita in piazza del popolo sotto il comune Alley Cat Race premia i testimoni della bellezza oltre 30 partecipanti alla gara alla scoperta dei luoghi della cultura nebbia e umidità non hanno fermato gli oltre 30 ciclisti amatoriali arrivati da tutta la provincia per partecipare ieri mattina a questa iniziativa una gara divertente alla scoperta dei luoghi della cultura di Pesaro organizzata dalla periferica dalla sua cicloferica con il supporto dello staff del comune un percorso bello un percorso interessante un percorso anche che fa bene alla salute ceriamo pagina e vediamo la notizia di Valle Foglia Monte Calvo in foglia anzi diciamo meglio Borgo Massano un ventenne pestato a sangue dal branco rabbia scatenata da una provocazione l'aggressione sabato notte davanti al bar la vittima è in ospedale per gravi lesioni e ovviamente ora si cerca di capire l'identità di questi aggressori dalla ristorazione al turismo una rete per le marche giovedì da Confcommercio il governatore Acquaroli e gli assessori Aguzzi e Baldelli delineeranno un po' qual è la strategia per sostenere il commercio della nostra regione un commercio che ora si appresta a sostenere e soprattutto ad affrontare la fase speriamo incentivante delle festività natalizie a Urbino nuove cucine professionalità forgiate sui prodotti dell'area all'istituto alberghiero di Piobbico la provincia finanzia tre laboratori all'avanguardia sono finanziati con 460 mila euro e realizzati dall'ente provinciale l'influenza di Dante la città ideale venerdì si inaugura a Palazzo Ducale ad Urbino la mostra cura di Gallo e Molinari giardini degradati l'attesa di un intervento risolutivo da tempo il gruppo di opposizione Urbino e il Montefeltro porta all'evidenza pubblica istituzionale la situazione degradata dei giardini tra il convento di Santa Chiara e il Palazzo Gherardi in pieno centro storico movimentato giornalmente dal passaggio dal passeggio anzi di tanti studenti e a Fano si apre con il trionfo dei prodotti tipici della terra a sapori e aromi d'autunno che è un po' il compendio di tutte le sagre le mostre i festival che si tengono nel territorio provinciale in questo periodo dal tartufo all'olio agli altri prodotti ai formaggi pensiamo un po' alla casciotta di Urbino prima giornata di sapori e aromi d'autunno assegnati i premi in Marche Nostre a varie associazioni e a vari produttori è apparso più gremito che mai il ritorno di sapori e aromi d'autunno dopo la pausa dell'anno scorso causata dalla fase più grave della pandemia pista dell'Arzilla moderata apertura del comune i tecnici confermano che le gabbionate servano e la sezione viene ridotta a 2,5 metri abbiamo già detto come però questo incontro non ha soddisfatto gli ambientalisti ovvero i rappresentanti i tecnici dell'associazione Lupus in favola e quindi il contrasto perdura giriamo ancora pagina e vediamo che sulla pagina di Fano si parla dell'aeroporto aeroporto due solci disertano l'assemblea ma si sblocca l'impasse per la gara di Enac si doveva votare sulla causa dell'ex amministratore un chiarimento con il ministero sulla proprietà delle aree e il titolo sintetizza giustamente il contenuto dell'interno si doveva svolgere un'assemblea giovedì scorso alle 15.30 all'assemblea della società Fanum Fortune per decidere se portare avanti o meno la causa all'amministratore unico vecchio Gianluca Santorelli in realtà però due soci non si sono presentati in totale i soci sono tre la provincia la Camera di Commercio e il Comune di Fano la provincia ha deciso di vendere di mettere sul mercato la propria quota azionaria la Camera di Commercio lo ha fatto da tempo nessuno però ha trovato un compratore è rimasto in Comune di Fano quindi il sindaco Massimo Seri è rimasto soltanto presente in assemblea e quindi la questione è rimasta un po' al palo però intanto sembra che si sia fatto un passo avanti per quanto riguarda il parere che deve essere lasciato dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la delibera del Comune di Fano che intende cedere l'aeroporto all'Enac pur mantenendo però la proprietà ovvero cede il diritto d'uso questo sembra però che non sia possibile a parere del Consiglio di Stato e quindi la delibera sarà da rifare vedremo che cosa accadrà soprattutto questa sera perché alle 18.30 è prevista la riunione della Commissione Garanzia e Controllo proprio sulla questione dell'aeroporto siamo vicini in conclusione vediamo la videosorveglianza finanziata dall'avanzo dell'amministrazione a San Costanzo e il punto vaccinale a Pergola riapre il giovedì e il sabato per quanto riguarda lo sport vediamo il pari che c'è stato per la vis la vis accende troppo tardi e va in bianco mentre per l'Alma tre punti in tasca con la vittoria all'alto Casertano addirittura per 2 a 0 missione compiuta esordio morbido per Capellacci il nuovo allenatore contro l'ultima della classe Casolla e Liquexiu chiudono i conti in meno di mezz'ora finalmente si respira e i tifosi esultano e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per la Rassegna Stampa buona giornata